Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alessandro e oggi finalmente vi volevo parlare del mio nuovo studio. Fino a pochi mesi fa quella parete dietro di me era una normalissima parete bianca, avevo voglia di cambiare, avevo voglia di dare un tocco di colore e quindi la mia prima idea era quella di far dipingere la parete o di un grigio medio o di un blu abbastanza scuro. Dico far dipingere perché la mia bravura nelle cose di questo tipo di casa è veramente zero. Sono andato però a Milano con Luca la prima volta al cross studio e lì ho potuto apprezzare un arretamento industrial. Mi è piaciuto talmente tanto che ho detto ok domani torno a Roma e voglio il mio studio industrial. Per far questo ho fatto il giro di tutte le catene di mobili possibili e immaginabili che è all'Euram LN eccetera 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 ed ho trovato qualcosa di interessante solo da Maison du Monde ma ragazzi costava veramente tutto tantissimo. Quindi sono andato su Amazon e ho trovato un venditore che vendeva proprio i mobili di cui avevo bisogno io e sto parlando di questa scrivania e quella libreria là dietro. Sono dei mobili in stile appunto industrial, la parte di legno è un legno molto scuro e la parte di ferro è un ferro molto scuro dipinto nero. La parte di legno non è di vero legno, è più un truciolato. La qualità è comunque ottima, diciamo che è migliore di quella di Ikea a parità di prezzo quindi io ve li straconsiglio. Chiaramente qui sotto in descrizione troverete il link a questi due prodotti. Una volta comprati questi due mobili dovevo far qualcosa per quella parete là dietro. Sono andato quindi da Leuva Merlin e ho trovato quella carta da parati che riproduce i classici mattoncini. Mi è piaciuta da morire, c'era sia così scura sia il mattoncino rosso, ho scelto questa scura e con un po' di fatica insieme a Michela siamo riusciti a metterla. All'inizio non ero convinto della cosa quindi ho utilizzato uno scotch biadesivo per attaccarlo alla parete. L'ho trovato sempre lì da Leuva Merlin dove sono le carte da parati. È fatta apposta ma chiaramente dopo un paio di giorni si è scollato tutto. Quindi siamo dovuti andare nuovamente da Leuva Merlin a comprare la colla quella fatta apposta. Ma una volta incollata chiaramente la carta da parati non va più da nessuna parte. Il lavoro è venuto bene al 92-90-92%. C'è qualcosa che non va ma voi lì dietro vedete tutto sfocato quindi è venuta una bomba. Dopodiché sulla scrivania ho una cassa JBL Extreme attaccata al Mac per la parte audio. Ho comprato questo braccio molto lungo per poter alzare lo schermo. Avevo comprato un 32 pollici, chi mi segue su Instagram lo sa, ma effettivamente su questa scrivania che è abbastanza stretta era veramente troppo vicino. Guardate quanto è vicino. 32 pollici era enorme. L'ho dato via e ho preso un altro BenQ da 24. Molto più piccolo, sì lo so, però con questo io mi trovo benissimo. Lì sotto abbiamo chiaramente il MacBook Air M1 che andrò a sostituire con l'M2 appena uscirà. E vicino abbiamo la tavoletta grafica. Un po' più in là abbiamo la penna per la tavoletta grafica e un mouse, l'MX Master 3. Adesso invece vi volevo parlare di illuminazione. Qui ci ho messo un po' per farlo quindi vi volevo spiegare tutto. Ehi Siri, spegni studio. Quella che vedete adesso è la mia luce principale. È il Godox ML60 dimmerato al 30%, impostato con temperatura colore a 5000 gradi Kelvin. E come modificatore di luce sto utilizzando un piccolo Octabox da 80 con doppia tendina e griglia. Sto utilizzando questo softbox perché avevo bisogno di una luce sì diffusa ma concentrata su di me. Quindi ho utilizzato chiaramente la griglia per fare in modo tale che la luce cada su di me ma vada il meno possibile dietro di me. Per quanto riguarda invece tutte le altre luci ho fatto un video a riguardo sull'illuminazione smart di Ikea più l'HomePod. Ve lo lascio qui sopra in descrizione. Per cui... Ehi Siri, studio video. Avevo bisogno di molti punti luci diversi e avevo bisogno che si accendessero tutti insieme. L'unica cosa che non volevo era andare a accendere lampadina per lampadina, cercare la temperatura colore o comunque il colore di ogni singola lampadina RGB. Quindi ho creato questa scena e con questa scena faccio praticamente tutti i miei video di YouTube. Se non volessi i colori ho creato una seconda scena. Ehi Siri, studio 50. Questa ad esempio è la seconda scena, non la utilizzo molto però mi piace molto ed è il tipo di luce che utilizzo normalmente quando vado ad editare le foto ed è buio. Ehi Siri, studio video. Per ora però questa scena è quella che mi piace di più per i miei video, quindi utilizzo sempre questa, ma chiaramente tutte le lampadine e i faretti sono RGB, quindi posso cambiare il colore in qualsiasi momento. Ehi Siri, spegni presa. Ci sono però tre cose in questo studio che non hanno lampadine smart. Quindi ho dovuto comprare una presa smart di Ikea, alla quale ho messo un classico sdoppiatore a tre, quindi ho tre accessori su una sola presa smart. Ehi Siri, accendi presa. I tre accessori sono questa lampada molto molto bella, mi piace da morire, l'ho presa da Levan Merlin. Dentro c'è una lampadina Edison a spirale, molto molto bella, costa 65 euro se vi interessa, la trovate da Levan Merlin. Sopra di me dietro troviamo un'altra lampadina Edison, il faretto l'ho preso invece questa volta da Ikea, che serve come rim light. Vedete questo arancione sopra la mia testa e deriva da quella lampadina lì. Il terzo accessorio che si accende con questa presa è la A, che vedete là dietro, a neon, viola. Mi dispiace che in video sembri bianca, ma in realtà è viola, che mi è stato regalato da Neon Hub quando ho fatto uno shooting presso appunto il loro punto vendita. Dietro di me ci sono due lampadine Ikea, sempre appunto RGB, che posso giustarmi come voglio, con un portalampade Ikea, non ve lo linko perché non l'ho più trovato, però il portalampade è veramente molto molto semplice, di acciaio nero costava 5 euro. Dopodiché abbiamo un'altra lampadina Ikea, sempre RGB, dietro lo schermo, e questa l'ho messa per dare un punto luce, se no tutte le lampadine che ci sono là dietro andavano a creare un'ombra veramente molto brutta dietro lo schermo. E visto che siamo qui, questa sembra una parete, ma in realtà è una tenda di Ikea che sale e che scende, perché da questa parte io ho una finestra enorme da 3 metri, non mi piaceva tanto includerla nella scena o comunque includere la classica tenda bianca che c'è in realtà, quindi ho comprato una tenda di Ikea, la più grande che c'era, che sta praticamente attaccata alla tenda bianca, in modo tale che se metto giù la tenda di Ikea a voi sembra una parete grigia, mentre se la tiro su ho la finestra normale con la tenda bianca. Ultima cosa, sopra di me c'è un lampadario di Ikea con tre faretti RGB, e in questa scena due faretti sono spenti, uno è acceso col colore blu che va a puntare direttamente sul muro là dietro di me. Ok ragazzi, vi ho parlato brevemente dell'illuminazione e dei mobili del mio nuovo studio, quando ci saranno un po' di upgrade chiaramente farò un altro video a riguardo, per ora il video finisce qui, se vi è piaciuto mi raccomando mettete un like e scrivete un commento, e noi ci vediamo a un prossimo video, ciao!